Allora, oggi cominciamo a parlare di strutture dati. Finora abbiamo visto una tecnica risolutiva generale, che è la ricorsione più la programmazione dinamica, e poi abbiamo visto un po' di algoritmi noti. Oggi vediamo un po' di strutture dati note. Una struttura dati, come suggerisce il nome, è una struttura per contenere dei dati. Normalmente è una struttura dati contenente dei dati e ci permette di fare delle certe operazioni su questi dati, con delle certe complessità computazionali. Quando, se guardiamo a basso livello, che blocchi base abbiamo in un linguaggio tipo C, in C l'unica cosa che possiamo veramente fare per gestire i nostri dati è allocare buffer fissati di memoria. Ovvero, cosa intendo con questo? Quando noi in C dichiariamo una certa variabile in TA, per dire, quello che stiamo facendo è che stiamo fondamentalmente dicendo al compilatore guarda che ci serve uno spazio di 4 byte in memoria per gestire questa variabile. Quando noi facciamo un vettore di char, che ne so, chiamiamolo s, di 16, noi quello che stiamo dicendo al compilatore qua, che poi dirà al computer, è che vogliamo riservare uno spazio di 16 byte in RAM, perché poi noi lo useremo per gestire questo vettore di carattere, quindi in C sarebbe per convenzione una stringa. Ok, quindi il fatto che possiamo fare in C è allocare spazi fissati di memoria, cioè noi diamo una dimensione e ce l'alloca. Una funzione un pochino più generale, che fa comunque lo stesso lavoro, ma ci permette di decidere quanto spazio vogliamo, quanto spazio ci serve per il nostro buffer, non a compile time, quindi nel senso non dobbiamo scriverlo a priori, ma possiamo metterlo anche dinamicamente, è la malloc. Vediamo quanto riesco a scrivere bene, non tantissimo. Comunque, malloc è una funzione che, dato un certo numero n di byte come parametro, ci restituisce uno spazio di memoria che possiamo utilizzare di quel numero di byte. Quindi l'unica cosa che possiamo fare in C, per gestire i nostri dati, quindi per potercene mettere dentro e poi farci le cose, è chiedere a C, che poi chiederà al sistema operativo, di allocare un buffer di una certa memoria fissata. Ok, questo è il blocco base con cui lavoriamo. Allora, ci sono un po' di strutture dati, che vedremo, che alcune saranno molto banali da capire come implementare, dato questo unico blocco base che abbiamo, e altre invece magari possono essere un pochino più complicatucce. Allora, la prima cosa che potremmo volere implementare, quindi ricordiamoci che malloc è il nostro blocco base. Malloc è semplicemente una funzione dello standard library dc, che gli passiamo una certa dimensione in byte e ci alloca uno spazio in RAM da utilizzare che ha quella dimensione, e fine. E poi se vogliamo c'è free, che libera quello spazio di memoria. Questo è il nostro blocco base. Quindi la prima cosa che potremmo voler memorizzare è un array statico. Cos'è un array statico? Un array statico è il voler memorizzare una certa sequenza di elementi, facciamo finta che sia numeri, di una dimensione nota a priori. Cioè noi sappiamo che vorremmo memorizzare, che ne so, 3, 2, 5, 1, 0, 3. Che sono sei elementi. Noi vogliamo memorizzare questi sei elementi. Magari li vogliamo anche modificare, ma comunque rimangono sei. E come facciamo? Beh, in questo caso è semplice. Mettiamo di voler che questi elementi siano interi, siano int. Il modo per creare la struttura dati che contiene questo array statico, uno dei modi, non è l'unico, uno dei modi è fare una... Adesso sto scrivendo in corsivo, che non va bene. È fare una malloc di quanto? Quanti byte ci servono per memorizzare questo array statico in particolare? Domanda per voi. 24? Ce ne servono 24, sì. Perché 24? Perché ce ne serviranno numero di elementi per, quindi facciamo uno star, per la dimensione di un intero. La dimensione di un intero è 4 byte, ma se non lo sapessimo, in C c'è un operatore che si chiama sizeof, che passato un tipo restituisce il numero di byte che servono per memorizzare quel tipo. Quindi se facciamo 6 per sizeof int, farà 24, e quindi 24 bytes sono quelli che ci servono per memorizzare questo array statico. Ok. L'array statico è una struttura dati in cui le operazioni che possiamo fare sono poche. possiamo accedere a un qualunque elemento in tempo costante. Ok. Quindi se vogliamo accedere a, mettiamo che questo qua si chiama A, se vogliamo accedere a A di 2, che quindi sarebbe questo. Ok. Lo possiamo fare in tempo costante. Possiamo anche modificarlo in tempo costante. Ok. Possiamo solo scrivere in tempo costante. Ma non possiamo fare tanto altro. Non possiamo aggiungere elementi. Non possiamo rimuovere elementi. Perché è un array statico, ha una dimensione fissata. Ok. Quindi questa è la prima struttura dati, che è la più banale, ma che in realtà per tante applicazioni, anche quasi tutte le programmazioni dinamiche, basta e avanza. Un array statico, basta e avanza. Una piccola parentesi di implementazione. Ho detto che questo non era l'unico modo di dichiarare questo vettore. Si poteva fare anche così. A di, quindi sarebbe stato int, devo dichiarare veramente, sarebbe stato A int di 6. Ok. Questo è un altro modo. C'è un piccolissimo dettaglio però. C'è una differenza tra fare questo e fare l'altro sarebbe stato per essere completi int asterisco A uguale malloc di 6 per size of int. ok. Questi sono i due modi in cui potevo dichiarare questo A che poi sono equivalenti perché posso fare in entrambi A di che ne so A di 2 eccetera eccetera come fare cioè come utilizzare un metodo normalissimo. c'è una differenza però questo qua ora non voglio entrare troppo nella teoria dei sistemi operativi ma dovete sapere che la memoria in modo logico solo con la RAM è una sola ma in modo logico viene divisa in più pezzi c'è una zona di memoria che si chiama lo stack una zona di memoria che si chiama lo heap read only data altre cose ci sono diciamo varie zone di memoria che il programma può usare e una cosa importante è che questo qua viene messo sullo stack se lo si dichiara così e questo qua invece viene messo sullo heap ora su linux se state usando linux e probabilmente anche mac fare allocare sullo stack e allocare sullo heap praticamente non ha differenza non c'è praticamente nessuna differenza e possono essere usate abbastanza interscambibilmente invece se state usando windows windows ha una dimensione dello stack molto piccola cioè dà al vostro programma una dimensione dello stack prefissata che è abbastanza piccola quindi se voi allocate in questo modo un vettore e questo vettore è troppo grosso cioè sfora la dimensione dello stack che il programma ha a disposizione beh il programma crusha quindi in generale se il vostro programma volete farlo girare su windows comunque volete essere un pochino più safe in modo cross platform questo modo qua quindi allocarlo sullo heap con malloc è meglio poi ci sono tante altre ci sono altri motivi per cui si può preferire malloc rispetto all'allocale sullo stack però uno dei motivi principali è che su windows lo stack è limitato quindi se allocate 6 no ovviamente ma se allocate adesso esagero ma un milione di elementi sicuro crasha proprio sicuro sicuro ok ma quella roba lì è un asterisco prima di a uguale malloc questo sì sì questo è un asterisco questo questo sgorbio qua che faccio è un asterisco ok per dichiarare un array del genere con questa funzione bisogna mettere int per asterisco eccetera cioè perché praticamente ora poi farò anche magari degli approfondimenti sul c ma fondamentalmente questo asterisco sopperisce alla mancanza di queste quadre mettere questo asterisco qua sopperisce alla mancanza di queste quadre e quindi in realtà il tipo di questo e il tipo di questo fondamentalmente è lo stesso solo che cambia come è fatto perché è in base a come viene gestito però sono entrambi vettori cioè int asterisco int a quadre qualcosa quadre sono entrambi i vettori ok ok bene ah e poi un altro motivo per cui si preferisce questo a questo è che questo qua è valido la vocazione sul heap in questo modo è valida sia in c che in cppu mentre in cppu questo non è valido fare questa cosa in cppu non è valido ciò non vuol dire che non funzioni però è meglio non farlo perché ufficialmente non dovrebbe funzionare poi comunque i compilatori sono fatti in modo che anche se lo fate funzionano lo stesso però da standard questa cosa non si può fare in cppu allocare sullo stack in questo modo non si può fare perché scusa ma dimmi io credo di averlo sempre fatto così allora il fatto è questo in c questa cosa è ben definita in c questa cosa è valida in cppu in teoria è vietata cioè in teoria in cppu questa cosa qua allocare sullo stack in questo modo è vietato il fatto è che per elettrocompatibilità per altre cose parecchi compilatori tra cui gcc che è quello che c'è dentro dev cppu e anche codeblocks permettono di fare questa cosa questo cosa vuol dire che finché usi un compilatore che permette comunque di fare quella cosa funziona ovviamente però visto che da standard non dovrebbe essere permesso allocare così sullo stack un altro compilatore potrebbe benissimo non permettertelo in cppu chiaro? sì ok bene quindi questa era la più base di tutte che è l'array statico però una cosa che potremmo volere non è un array statico ma potremmo volere avere un array dinamico cosa intendo con array dinamico intendo un vettore che oltre poter accedere a ogni posizione in tempo costante modificare ogni posizione in tempo costante ci permetta anche di cambiare la dimensione in tempo costante cioè abbiamo un vettore mettiamo da 6 e vogliamo aumentare la capacità di questo vettore di 3 elementi per esempio vogliamo farlo diventare 9 ok quindi vogliamo un array dinamico ora in C come ho detto non abbiamo altri blocchi base se non fondamentalmente la malloc tutte quante le strutture date invece che ora discuterò e che comunque noi costruiamo usando solamente il blocco base di C quindi volendo volete implementare in C tutte quante sappiate però che ognuno di queste strutture dati che faremo ne facciamo 6 credo hanno sono già preimplementate in C++ per questo di solito in gara molti usano ne compreso C++ e non C perché in C++ c'è già molta roba preimplementata e quindi non bisogna perdere il tempo di implementarle in gara tuttavia sono tutte quante ovviamente fattibili anche in C basta implementarsene allora abbiamo detto il re dinamico quindi cosa vogliamo vogliamo un accesso e per accesso intendo sia scrittura che lettura in tempo o grande di 1 come il re statico e l'altra operazione che vogliamo la chiamiamo un'operazione di di pushback ok che la vogliamo meno grande di 1 e cos'è pushback pushback vuol dire abbiamo un vettore ok quindi adesso non ci scrivo gli elementi ma c'è roba dentro abbiamo un vettore di una certa dimensione e pushback quello che vogliamo che faccia è che dato un elemento lo aggiunga quindi questo è il nostro nuovo elemento e quindi aumenti di 1 la dimensione del vettore questo è quello che vogliamo come il re dinamico ok e normalmente ci basta questa operazione qua in realtà poi vedremo che una volta che implementiamo questo pushback abbiamo altre operazioni che ci vengono gratis però cominciamo con questo pushback ok qual è il tipo cominciamo a provare approcci e vediamo come vanno qual è il problema noi abbiamo ricordiamoci solo la malloc non abbiamo altro quindi quale potrebbe essere una prima approssimazione che se noi abbiamo mettiamo che noi vogliamo un re dinamico però sappiamo che al massimo ci dovremmo mettere 100 elementi ok cominciamo con questa prima approssimazione quindi vogliamo un re dinamico che quindi mettiamo che inizialmente è vuoto e vogliamo poter fare accesso in tempo costante pushback in tempo costante ok sappiamo che al massimo potrà contenere 100 elementi non ce ne serviranno mai di view come facciamo come facciamo a implementarlo come facciamo ad avere questo re dinamico ah e un'altra cosa magari è che a questo punto vogliamo anche avere un'operazione sites ok che ci dica la dimensione che è in questo momento in tempo costante ok detto ciò quindi come facciamo domanda chiedo a Stefano S intendi cioè come facciamo ad aumentare la grandezza cioè noi vogliamo avere una struttura dati vogliamo avere una roba ok che ci permette di accedere a un elemento qualunque in tempo costante quindi sia in lettura che in scrittura ci permetta di fare questa operazione che ho chiamato di pushback cioè aumentare di una la dimensione e aggiungere quindi un elemento nella posizione che abbiamo aumentato in tempo costante e ci permetta di dire qual è la dimensione che è attualmente in tempo costante ok però vi ho fatto l'assunzione che sappiamo che sicuramente non ci metteremo mai più di 100 elementi ok al massimo faremo 100 volte pushback quindi fondamentalmente come facciamo a implementarlo avendo come strumenti solamente tutto quello che abbiamo visto finora cioè senza inventarci roba usando le cose che già abbiamo qualcun altro c'è idea no non so a qualcun altro vi viene qualche altra idea che lo prendo come un no beh allora ve lo dico io se noi facciamo un array statico da 100 elementi ok quindi facciamo un array statico da 100 elementi e ci teniamo un contatore quindi una singola variabile c inizializzata a 0 che ci dice qual è la dimensione attuale se noi ci teniamo queste due cose tramite solo queste due cose possiamo implementare questo array dinamico fissato con una dimensione massima di 100 come facciamo beh inizialmente le celle sono inizializzate a caso non ci interessa l'accesso possiamo garantirlo in tempo costante perché è un array quindi l'array statico già lo faceva per fare pushback cosa facciamo scriviamo l'elemento che ci viene dato nella cella c'esima quindi il primo elemento verrà scritto qua che ne so 3 e aumentiamo di 1 c ok se dobbiamo fare un altro pushback verrà scritto qua il prossimo elemento e aumentiamo ancora di 1 c quindi 2 ok come facciamo a dire quanto è lungo il vettore in questo momento beh basta che ritorniamo c è chiaro? cioè quindi è come se si come se si memorizzasse prima un array statico con 100 caselle in più e poi si trascorre ad un contatore e si ogni volta che si fa pushback si mette la cosa nuova nella casella dopo sì ovviamente è un trick perché perché noi cioè perché noi stiamo assumendo che la dimensione massima sia 100 ok e quindi se la dimensione massima è 100 sappiamo che non faremo mai più di 100 pushback beh allora è semplice tenerci questo vettore dinamico usiamo un vettore di dimensione statica della dimensione massima che mai potremmo avere ok e poi usiamo un contatore usiamo questa variabile c per sapere a che punto siamo arrivati a riempire questo vettore chiaro ma quindi cioè l'array dinamico sarebbe un array statico creato dopo che ci siamo cioè che abbiamo capito quanto lo vogliamo lungo o che per esempio lo creo con 5 e poi posso aggiungere proprio cioè modificare da prima da dopo l'inizio l'inizio ok questo cioè questo qua non è un array dinamico attenzione cioè la cosa che abbiamo fatto in questo momento non è un array dinamico questo qua era una prima semplificazione nel caso in cui sappiamo che non potranno mai esserci più di 100 elementi dentro va bene questa è una prima approssimazione non è l'array dinamico ancora ci dobbiamo ancora arrivare ah ok ok però se avessimo questa assunzione se avessimo questa assunzione del numero massimo di elementi ora sappiamo farlo giusto? beh in modo banale nel senso ok ora vogliamo levare questa assunzione vogliamo levare il fatto che al massimo ci possano essere dentro 100 elementi ok come facciamo? allora possiamo fare la seguente cosa assumiamo ok facciamo finta che all'inizio il vettore potrà avere al massimo dentro un elemento ok che è un'assunzione stupida ma assumiamo questo quindi cosa facciamo? ci creiamo la nostra variabile c uguale a 0 e ci creiamo un vettore lungo 1 va bene vettore statico lungo 1 quindi chiamiamo facciamo così chiamo s ok l'assunzione no non è vero chiamo s quello che prima era c e chiamo c l'assunzione va bene quindi c è l'assunzione di quanto al massimo ci potrà essere dentro non lo sappiamo facciamo finta che sia 1 quindi al massimo ci potremmo mettere potremmo mettere un elemento s invece è il c di prima cioè dove siamo arrivati a riempirlo ora se facciamo un pushback possiamo farlo ovviamente perché lo mettiamo qua s questo qua è libero quindi s aumenta 1 e qua ci mettiamo un elemento facciamo mettere che sia un 3 bene ora se dobbiamo fare un altro pushback e qua sono guai perché abbiamo riempito tutto il vettore estatico che avevamo allora cosa facciamo nel caso in cui il pushback rompe la nostra assunzione cioè rompe il fatto che al massimo il numero di elementi che ci mettevamo dentro era 1 allora quello che facciamo è che creiamo un nuovo array estatico di dimensione doppia rispetto a quello di prima quindi con c uguale a 2 in questo caso ok e copiamo tutto quello che avevamo finora quindi mettiamo s uguale a 1 e copiamo tutto quello che avevamo prima nel quello nuovo una volta che abbiamo fatto ciò cancelliamo quello vecchio ok ora avremo un nuovo vettore statico la cui assunzione però è che al massimo ci possiamo mettere dentro due elementi quindi il prossimo ce lo potremmo mettere facciamo vedere che sia un 7 ok quindi è un altro 2 bene se ora vogliamo fare un altro pushback beh e non ce l'abbiamo più allora cosa facciamo creiamo un nuovo vettore di dimensione doppia rispetto a quello prima quindi c sarà 4 ok e copiamo tutto quello tutto quello che avevamo prima quindi il pezzo cioè tutto il vettore che abbiamo prima lo ricopiamo e mettiamo adesso quella 2 e cancelliamo quello vecchio quindi adesso se facciamo un altro pushback beh potremmo farla facciamo finta che è 1 quindi questo passa 3 se facciamo un altro pushback possiamo farla mettiamo che sia 0 ok diventa quella 4 ora se ne vogliamo fare un'altra ripetiamo quindi il prossimo sarà lungo 8 perché il doppio ottima domanda perché il doppio e non perché aumentare di 1 o aumentare di 5 o una dimensione costante di costante perché ora ci dobbiamo chiedere quanto ci costa in complessità computazionale fare questo perché allocare un vettore di dimensione n ok ci costa in realtà nei sistemi operativi moderni in tempo costante quindi la malloc chi se ne frega però c'è un problema che ogni volta che allochiamo un nuovo vettore beh dobbiamo copiarci un vettore il vettore precedente che era lungo n potenzialmente cioè se abbiamo fatto n pushback dobbiamo fare la n più unesima beh ci dobbiamo copiare n elementi ma allora facciamo delle simulazioni proviamo la strategia facciamo n inserimenti ok e proviamo la strategia di aumentare di 1 la dimensione o di aumentarla o di raddoppiarla allora cominciamo la strategia più 1 e poi faremo la strategia per 2 ok allora la strategia più 1 cosa fa? il primo inserimento ci costerà 1 ok abbiamo saturato il vettore il prossimo inserimento quindi ci costerà 2 perché dobbiamo copiare il vettore vecchio e mettere l'elemento nuovo il prossimo ci costerà 3 perché dobbiamo copiare l'elemento vecchio quindi abbiamo due operazioni dobbiamo inserire quello nuovo quindi ci costa 3 ok quella dopo ci costerà 4 quella dopo ci costerà 5 quella dopo ci costerà 6 quella dopo ci costerà 7 e così via ok perché ogni volta dobbiamo copiare il vettore precedente e aggiungere un elemento e quindi ci costa un'operazione in più ogni volta e così via facciamo la strategia del raddoppio allora la prima volta ci costerà 1 perché lo mettiamo poi ci costerà 2 perché beh lo dobbiamo copiare quello prima e aggiungere quello nuovo quello dopo cosa ci costerà beh dobbiamo allocare il doppio copiare quello di là e quindi ci costa 3 ma attenzione perché qua avevamo un vettore lungo 1 giusto e l'abbiamo riempito e ci costa 1 qua abbiamo dovuto crearne 1 lungo 2 ok abbiamo copiato quello di prima e abbiamo messo quello nuovo qua abbiamo alloccato 1 4 1 lungo 4 perché la regola era il doppio quindi dobbiamo copiare i 2 prima ci costa 2 e mettere quello nuovo ci costa 3 ma la prossima operazione quanto ci costa adesso? non ci costa 4 ci costa 1 perché ci costa 1? perché mettere perché questo spazio ce l'abbiamo già libero ok non dobbiamo fare niente dobbiamo solo metterci l'elemento quindi ci costa costante andiamo avanti quindi il prossimo quanto ci costerà? beh ci costerà 5 credo perché ne abbiamo 4 dobbiamo copiarli e poi ce ne dobbiamo mettere 1 però adesso questo era lungo 8 ne abbiamo 5 pieni vuol dire che i prossimi 3 sono gratis i prossimi 3 ci costano tempo costante poi qua sarà 9 ma i prossimi 7 ci costeranno tempo costante mentre di qua sarebbe stato 11 12 eccetera eccetera è chiaro perché ci sono questi 1 e perché allora non si va per esempio per 3 o per 5? cioè non sarebbe meglio? allora in realtà sì puoi fare allora adesso vediamo molto ad alto livello come cosa vengono le complessità con questi però in realtà questa strategia funziona per qualunque cosa puoi fare anche tipo per 1.5 invece che per 2 puoi fare per 7 invece che per 2 perché si fa proprio per 2? è più una questione di come funziona sotto il computer alla RAM piace al sistema operativo piace che vengano allocati vettori che sono lunghi potenze di 2 ok? quindi gli piace che vengano allocati vettori lunghi 1 2 4 8 16 32 eccetera per una questione di cache di tante cose e quindi per 2 ovviamente è la cosa migliore che puoi fare in questo caso però dal punto di vista della complessità computazionale puoi fare per qualunque cosa basta che sia maggiore di 1 ok quindi abbiamo visto che adesso tante operazioni ci costano meno ma come facciamo a stimare la complessità di una singola pushback quando varia? beh possiamo fare in questo modo c'è una cosa che non entro ma si chiama analisi ammortizzata che tendenzialmente ci chiede ci dice che la complessità computazionale di questa cosa sarà il limite per n che tende infinito di la somma chiamiamola s di tutte quante dei costi delle singole operazioni fratto n ok quindi quindi quello che mi devo chiedere adesso è se faccio le prime n operazioni quanto pago? beh qua sto facendo 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 ora non so se qualcuno di voi lo sa ma 1 più 2 più 3 più 4 più papapam fino a n ok è uguale a n per n più 1 fratto 2 è una formula nota la somma dei primi n numeri è uguale a n per n più 1 fratto 2 provare per credere che ne so 1 più 2 più 3 più 4 fa 10 4 per 5 fa 20 diviso 2 è 10 ok quindi la strategia più 1 ci porta ad avere il limite per n che tende a infinito di cosa? di questa roba qua n per n più 1 fratto 2 fratto n ora non mi metto a fare i calcoli se volete fateli voi ma sta cosa fa n ok magari non fa proprio n comunque fa sicuramente 1 grande di n ok perché sopra viene una roba che è grossa n quadro sotto viene una cosa che è grossa n e quindi verrà un grande di n invece la strategia per 2 cosa succede? sarà il limite di n tendente a infinito di qualcosa fratto n questo qualcosa è un po' un casino da stimare e in realtà non mi addentro troppo ma il numero di uni ok qua ce n'è 1 qua ce ne sono 3 qua ce ne sono 7 i prossimi saranno 15 e così via aumenta esponenzialmente il numero di buchi quindi il numero di punti dove abbiamo questi 1 aumenta esponenzialmente e in realtà alla fine si vede che la cosa che ci deve essere qua fratto n viene 1 grande di 1 so che non sono entrato troppissimo nelle dimostrazioni ma secondo me sono in questo momento out of scope e ci basta sapere qual è la complessità quindi se noi aumentiamo di 1 ogni volta ma funziona anche se aumentiamo di 2 o di 3 o comunque aumentiamo di un fattore costante ogni volta beh questa cosa ci costa o grande di n il singolo pushback in media ci costa o grande di n invece se raddoppiamo o facciamo per 1.5 o per 3 o per 20 ci costa o grande di 1 in media ok quindi questo è come si implementa un array dinamico un array dinamico anche questa qua è proprio l'implementazione che c'è in cppu non è altro che un array statico facendo una certa assunzione di dimensione massima che quando viene violata raddoppia la dimensione dell'array statico e va avanti così questo è come sono veramente implementati i vector in cppu bene quindi cosa possiamo fare qua? possiamo fare questo pushback e possiamo sapere la dimensione in tempo costante perché basta restituire la variabile per tenerci conto di dove eravamo arrivati a riempire il vettore un'altra struttura interessante è la lista perché la lista fa il pushback che in realtà è un push front ma chi se ne frega al massimo il vettore è al contrario in tempo costante ha la dimensione in tempo costante ma ha l'accesso in tempo o grande di n quindi prende un'altra strada mantiene questi due in tempo costante ma fa questo in tempo o grande di n infatti è poco usata meno in casi particolari perché c'ha poi altre operazioni che sono più convenienti con i vettori ma è molto raro che si usi la lista quello che fa è questo invece di avere un vettore continuo ok come l'array statico come l'array dinamico quello che fa è che fate le allocazioni singole sempre con la malloc dove però sono blocchetti da due sono sempre blocchetti da due dove nel primo blocchetto c'è un elemento ok e nel secondo blocchetto c'è l'indirizzo quindi dove si trova in memoria il prossimo blocchetto e adesso questa cosa la rappresento come una freccia in realtà poi è un numero perché un indirizzo cioè una posizione in memoria è un numero alla fine quindi questo sarà comunque un numero però logicamente possiamo pensare come una freccia quindi nel prossimo elemento sarà facciamo che il vettore 3,7,2,1 ok quindi 3,7 freccia 2 freccia 1 e l'ultimo è particolare di solito si mette il valore 0 per dire che non c'è la freccia si mette il valore 0 ok quindi come facciamo ad accedere a un elemento come facciamo a inserire un elemento e come facciamo a dire qual è la dimensione allora la dimensione è abbastanza facile ce lo teniamo cioè come ci tenevamo la dimensione dell'ore dinamico ci teniamo un altro valore s che è la dimensione di questo molto banale e possiamo quindi saperla in tempo costante come facciamo ad inserire un elemento domanda come facciamo ad inserire un elemento in questa cosa in tempo costante lo chiedo a Stefano C ma io mi sono un po' perso su sta cosa della lista delle freccette dimmi non ho capito che cosa sono perché cosa stiamo facendo bene allora questo è un altro modo ok di tenere un vettore cioè prima tenevamo il vettore con il cioè prima per fare l'ere dinamico ok usavamo il trick di fare errei statici che raddoppiavano quando diventavano saturi fino a qua ci siamo? sì ok ora stiamo vedendo un altro approccio l'approccio qua qual è? noi sappiamo che la malloc con la malloc possiamo allocare roba di dimensione fissata allora l'idea qua qual è? allochiamo vettori da due errei statici grossi due ok allochiamo tanti errei statici grossi due ora ogni questi errei statici da qualche parte nella memoria ci dovranno stare ok la memoria la possiamo vedere come un enorme errei statico in un qualche senso lo possiamo proprio vedere come un enorme errei statico ok e quindi questo enorme errei statico possiamo indicizzarlo sarà la posizione 1 cioè 0, 1, 2, 3, 4, eccetera eccetera ok questa è la nostra RAM la nostra RAM la possiamo vedere come un enorme errei statico quindi quando malloc ci dà questi blocchetti di vettori grossi 2 ognuno di questi blocchetti avrà un indirizzo ovvero cos'è un indirizzo? avrà un indice nella RAM avrà il proprio indice in RAM allora cosa possiamo fare? se noi ci teniamo traccia di qual è il primo blocchetto chiamiamolo H ok H è il primo blocchetto noi ci teniamo questo e poi cosa facciamo? in H ci mettiamo il primo elemento mettiamo che sia un 7 e nel secondo elemento di questo blocchettino da 2 ok ci mettiamo l'indirizzo facciamo fin da questo qua abbia indirizzo 37 questo è indirizzo 51 e questo è indirizzo 12 numeri a caso quindi è l'indice in RAM di questo blocchetto da 2 quindi nel primo nel primo elemento del blocchettino ci mettiamo l'elemento del vettore e nel secondo blocchettino invece ci mettiamo l'indirizzo del prossimo blocco ok quindi se il prossimo elemento deve essere un 2 ok ci mettiamo 2 e poi ci mettiamo l'indirizzo del prossimo blocco se qua l'elemento è 0 ci mettiamo 0 e poi anzi facciamo che 12 va e poi ci mettiamo l'elemento del prossimo blocco se non c'è un prossimo blocco cioè se il vettore è finito ci mettiamo 0 per convenzione 0 vuol dire non c'è un prossimo blocco è un po' più chiaro adesso si ok adesso si ok quindi come faremo a visitare questo cioè come facciamo a prendere gli elementi di questo vettore beh non possiamo più accedere all'elemento e al terzo elemento in tempo costante perché non è un vettore non possiamo farlo però cosa possiamo fare possiamo partire dal primo blocco che ce l'abbiamo perché abbiamo la verbole h che ci contiene il primo blocco questo sarà il primo elemento stiamo cercando il terzo allora cosa facciamo spostiamo la nostra freccettina ok che ci indica qual è il blocco che stiamo prendendo in considerazione in questo momento al blocco che c'è l'indirizzo beh che c'è l'indirizzo del secondo elemento quindi spostiamo la nostra freccettina qua ok se vogliamo il terzo elemento quindi questo qua lo facciamo un'altra volta e otteniamo il terzo elemento che è 12 quindi sarà il primo elemento del terzo blocco come fare questo spostamento della freccettina lo vedremo quando faremo c si usano i puntatori però si può fare in tempo costante se dobbiamo fare questa operazione per andare al terzo elemento e ogni volta ci mettiamo un tempo costante se dobbiamo accedere all'ennesimo elemento beh ci pagheremo o grande di n per accedere all'ennesimo elemento di una lista paghiamo o grande di n perché dobbiamo fare n volte questo giochino di spostare la freccettina seguendo l'indirizzo che c'è scritto ok quindi abbiamo visto come tenere traccia della dimensione perché basta che ci scriviamo la variabile che ha la dimensione attuale e ce l'abbiamo abbiamo visto come accedere all'ennesimo elemento dobbiamo partire dal primo e ogni volta seguire per questo facevo la freccettina perché 51 fondamentalmente vuol dire è come se fosse una freccia a quest'altro blocco 12 in questo caso è come se fosse una freccia a questo blocco e così via detto ciò ora vogliamo inserire un elemento ok non più back ma front quindi non più in fondo ma all'inizio vogliamo inserire un elemento all'inizio e ci vogliamo mettere tempo costante come facciamo? Stefano C ma allora le operazioni che abbiamo sono quelle che abbiamo finora quindi possiamo usare gli array statici possiamo usare le malloc possiamo usare le cose che abbiamo visto finora ma il push front è inteso prima di H? il push front è nel senso il vettore in questo momento rappresentato da questa lista qual è? è 7 2 12 giusto? 7 2 12 noi pushback vuol dire aggiungere un elemento in fondo noi vogliamo raggiungere invece un elemento in cima cioè all'inizio vogliamo aggiungere per esempio un 3 ok dobbiamo fare un altro blocchetto da 2 dove che è 3 7 perché deve chiamare quello no è 3 7 attenzione si 3 7 perché deve chiamare quello dopo e non è 3 7 ah no 3 37 è 3 37 perché dobbiamo mettere l'indirizzo non il valore del prossimo ok questa è la prima cosa da fare e qual è la seconda cosa da fare? quell'S lì secondo me bisogna cambiarlo anche si aumentiamo di un OS ma dobbiamo fare anche un'altra cosa ti ricordo ti ricordo che H è l'inizio del lettore allora dobbiamo chiamare questo coso H esatto dobbiamo chiamare questo coso H cioè sovrascriviamo H fondamentalmente e l'indirizzo che viene dato a questo blocchetto è casuale? è casuale lo sceglie malloc a noi non ci interessa sarà che ne so 92 non ci interessa è un qualche indirizzo che ha dato malloc se vogliamo essere precisissimi se proprio vogliamo essere precisissimi però qua mi sa che aggiungo un po' di troppo di carne al fuoco malloc quello che restituisce è proprio questo numero cioè se voi provate a stampare quel numero là con un intero ok proprio il valore che restituisce malloc è proprio l'indice in RAM di dove ha messo quella cosa che gli avete chiesto di allocare quindi in realtà il secondo elemento di questa cosa sarà proprio la cosa restituita da malloc ok comunque questo era un dettaglino poi vedremo le cose magari un pochino meglio bene quindi abbiamo una struttura dove possiamo fare abbiamo la dimensione in tempo costante possiamo fare push front in tempo costante e abbiamo però l'accesso in tempo lineare quindi nè domanda nel redinamico possiamo fare push front in tempo costante se sappiamo già il valore che vogliamo inserire forse sì che lo inseriamo prima e poi copiamo tutto il vettore eh no ovviamente non lo sai a priori cioè nel senso se ad una certa in un momento qualunque ti dico devi aggiungere 12 all'inizio ok te sai farlo possiamo farlo in tempo costante e cioè io farei che mi aggiungo un valore a caso come primo copio tutto il vettore vecchio e poi mi metti il valore 22 eh allora cioè nel senso ovviamente allora non sapendolo prima perché se lo sai prima ovviamente ti lascio uno spazio libero ok ma non sapendolo prima puoi farlo in tempo costante no non è tempo costante perché poi devo riaccedere e cambiarlo nì allora un attimo noi abbiamo il nostro vettore dinamico abbiamo il nostro r dinamico vettore r si usa interscambiabilmente noi non sappiamo a priori che qualcuno ci chiederà di mettere un elemento all'inizio quindi ci mettiamo il nostro che ne so il 3 il 7 il 2 il 12 il 6 ok ora ci chiede guarda io voglio un 2 all'inizio voglio mettere un 2 all'inizio ok come possiamo fare cioè se volessimo farlo freghiamoci della complessità per ora come potremmo fare creo un vettore che sarà s più 1 metto un valore per esempio 0 come primo e poi copio tutto il vettore vecchio vabbè metti direttamente il valore che vogliamo aggiungere all'inizio allora cioè se vogliamo mettere un 2 ah ah si se lo so ah si ok ok un po' meno complicata vabbè va bene la complessità è la stessa però se non vogliamo cambiare il nostro vettore se non vogliamo riallocarlo non che cambia la complessità computazionale ma per esempio qua ci avevamo ancora uno spazio libero quello che possiamo fare e costa comunque tempo lineare possiamo spostare a destra ogni elemento di 1 ok quindi spostiamo a partire da destra ovviamente perché se no facciamo delle sovrascriviamo roba che non dobbiamo sovrascrivere spostiamo ogni elemento di 1 a destra cioè lo assegniamo a destra e poi ci scriviamo il valore che volevamo all'inizio ovviamente questa tempo lineare e no non si può fare in tempo costante il un array dinamico che è il pushback in tempo costante non può avere anche il pushfront in tempo costante non non si può fare quindi ricordatevi se avete un vector e vector credo che dia entrambe le le funzioni una in tempo costante una no bisogna stare molto attenti alle operazioni che si fanno perché possono costare significativamente in modo diverso ok quindi abbiamo visto l'array statico abbiamo visto l'array dinamico e abbiamo visto la lista vediamo altre vediamo ne vediamo un'altra e poi così domani faccio perché non riesco a fare tutte oggi perché volevo farvi vedere l'array statico l'array dinamico lista lo stack che facciamo adesso la Q la DQ e la priority Q qua ci manca eh già qua ci andava una U e una E ok quindi abbiamo visto l'array statico fatto l'array dinamico fatto lista fatta stack lo facciamo adesso e poi Q DEC e priority Q ce le teniamo per domani che sono anche le più complicate soprattutto la priority Q ok allora facciamo la prossima struttura dati lo stack lo possiamo vedere come una struttura dati un po' particolare vogliamo che faccia le seguenti cose allora vogliamo che abbia eh tre operazioni una push una pop e una empty e anzi vogliamo essere un pochino più precisi facciamo sides perché tanto empty vuol dire sides uguale a zero e sides ci dà più informazioni e vogliamo averle tutte quante in o grande di uno ok tutto quanto in tempo costante e vogliamo che si comporti in questo modo quando facciamo push aggiunge un elemento a questa cosa ok se facciamo per esempio push che ne so push di dodici ok aggiunge dodici facciamo push di tre aggiunge tre facciamo push di quattro aggiunge quattro ok quindi push aggiunge un elemento e pop invece restituisce l'ultimo elemento che abbiamo aggiunto quindi in questo caso quattro e lo leva quindi se facciamo continuo di qua se facciamo un'altra pop il prossimo elemento che dovrà restituire è tre quindi pop restituisce gli elementi che abbiamo aggiunto con push ma in ordine contrario questo è lo stack push aggiunge un elemento pop ci restituisce e lo leva all'ultimo elemento che abbiamo aggiunto sites ci dice quanti elementi sono attualmente presenti quindi all'inizio erano 0 fatto la push 1 fatto la push 2 fatto la push 3 faccio la pop 2 faccio la pop 1 ok è chiaro cosa deve fare uno stack e quando faccio pop la sites si aggiornano prontamente beh dovremmo farlo noi cioè dobbiamo implementarla sta roba queste sono le regole del gioco cioè questo è cosa vogliamo ottenere io vi ho descritto cosa vogliamo ottenere ovviamente quando facciamo pop sites deve decrementare di uno però dobbiamo farlo noi ovviamente cioè dobbiamo ora dobbiamo usare le cose che abbiamo già quindi il restatico il redinamico il lista per creare questa cosa noi vogliamo implementare questa che si chiama una struttura astratta ok bene come facciamo è abbastanza facile come possiamo fare per implementare uno stack ottenendo queste complessità computazionali partendo sempre dai tre concetti di prima possiamo usare quello che ci aggrada di più un'area statica un'area dinamica una lista non tutti funzionano cioè pensateci nel senso ce n'è uno che funziona particolarmente bene uno che funziona ma un po' peggio e l'altro che non funziona potremmo usare la base della lista partendo con un blocchetto a due se facciamo push prendiamo l'indirizzo del prossimo blocchetto e se facciamo pop invece torniamo indietro che si è sempre aggiorando sites allora intanto non possiamo cioè per come abbiamo detto che è la lista in questo momento non possiamo tornare indietro non sappiamo come tornare indietro perché abbiamo solo il prossimo non abbiamo mai il precedente nessuno ci vieta di tenerci anche il precedente facciamo blocchetti da tre e abbiamo successivo precedente però non chiaro non chiaro come cioè come l'hai detto come lo useremmo hint va usato l'aeredinamico e la cosa migliore in questo caso è usare un array dinamico per implementare questa struttura di dati quindi se parto con un array statico di n e se faccio push faccio un array nuovo n più 1 e se faccio pop faccio n più 1 copiando tutti tranne l'ultimo no allora due cose primo allora intanto adesso che abbiamo queste strutture dati non pensiamole come cose da smontare ok perché io ti ho detto usiamo l'aeredinamico e te mi hai parlato di array statico invece perché me ne hai parlato così perché ovviamente l'aeredinamico è fatto con un array statico però se abbiamo il concetto di array dinamico ok usiamo l'arr dinamico invece che l'arr statico e al massimo se dobbiamo aggiungere qualche operazione le aggiungiamo a quella struttura dati e allora a quel punto parliamo di come farla ok questa è la prima cosa seconda cosa comunque anche se parli dell'arr statico comunque non vogliamo mai aggiungerne uno e cioè riallocare un array statico aggiungendone uno e levandone uno riallocando perché ci costa tempo costante ci costa praticamente tempo lineare perché se dobbiamo riallocare ogni volta ci costa la tempo lineare detto ciò detto ciò come possiamo fare se noi abbiamo un array dinamico e non ci interessa attenzione a questo punto qua non ci interessa vedere come è fatto dentro non ci interessa ok noi abbiamo un array dinamico sappiamo cooperazioni a ok non ci interessa come è fatto dentro almeno che noi dobbiamo aggiungere qualche operazione allora quindi abbiamo il nostro ad ok chiamiamolo a ok a cosa avrà potremmo fare chiamiamole quindi push back ok potrà fare a potrà fare sites ok e le altre operazioni che abbiamo parliamo un attimo di un'altra di queste operazioni chiamiamo un'altra operazione a punto pop back ok l'operazione quindi qua dovrebbe prendere un elemento e qua non prende niente della size qua pop back se noi abbiamo il nostro vettore ok che quindi ha una certa capacità c ed è fillato fino a s quindi ci sono un po' di elementi ok facciamo fin da che ce ne sono 5 e la capacità è 8 questo è un 5 pop back quello che fa è che prende l'ultimo elemento ok quindi quello a posizione s lo leva dal vettore quindi alla fine levarlo dal vettore vuol dire azzerarlo e spostare indietro s quindi diminuirlo di 1 e restituisce quell'elemento pop back ok quindi restituirebbe 4 in questo caso ci costa tempo costante questa cosa perché dobbiamo solo azzerare un elemento e diminuire di 1 s e restituire quell'elemento ok avendo quest'ultima operazione a questo punto implementare uno stack diventa una cosa stupidissima perché uno stack ok se abbiamo uno stack s e facciamo finta che questo stack s quindi usa al suo interno un array dinamico v come diventano queste operazioni se dobbiamo fare push di un certo elemento e non possiamo possiamo fare semplicemente v punto push back cioè aggiungere al vettore all'ultima posizione elemento e se vogliamo prendere la size possiamo semplicemente restituire v punto size ok il vettore c'aveva la size restituisce quello che chiamo s e se vogliamo fare pop non dobbiamo fare altro che v punto pop back questa ho fatto lo stack perché lo stack è proprio balordo lo stack si mappa proprio perfettamente nell'operazione nell'operazione dell'area dinamico è solo un altro modo astratto lo stack di vedere l'area dinamico tutte queste operazioni sono o grande di 1 perché sono le operazioni proprio che abbiamo definito prima dell'area dinamico che erano o grande di 1 pop back vi ho fatto vedere che è un'operazione in o grande di 1 lo stack non è altro che un'altra interpretazione più astratta di un utilizzo particolare dell'area dinamico è abbastanza chiaro detti in altri termini ci sono domande allora vi consiglio perché se mi avete se non cioè questo silenzio sta dicendo non ho capito niente o quasi vi consiglio vivamente perché queste qua sono proprio cioè lo stack è rispetto alle altre è la più facile in assoluto struttura astratta perché si mappa proprio 1-1 negli aerodinamici vi consiglio di rimuginare su questi cioè di rendere vostri questi concetti perché poi domani facciamo cose invece più complicate è solo la questione di separazione mentale di l'area statica è l'unica cosa che possiamo veramente fare ok perché non possiamo fare altro in C possiamo fare la malloc e quindi abbiamo solo l'area statica l'area dinamico e la lista sono due cose abbastanza concrete che possiamo fare per gestire il caso di vogliamo avere cose che possono aumentare di dimensione man mano nel tempo lo stack invece è la prima struttura astratta cioè vogliamo implementare qualche operazione delle operazioni cosa possiamo usare per implementarle e lo stack è la più balorda delle strutture astratte perché si mappa proprio esattamente senza dover fare cose aggiuntive in quello che già fa un area dinamico è un area dinamico che è un area dinamico